Aldo Montano è pronto a diventare papà, fino a due anni fa non ci pensavo, adesso con Asia, la figlia di 12 anni della sua compagna, la bellissima Antonella Mosetti, sto imparando e me la cavo piuttosto bene, sono pronto e vorrei un figlio maschio, così ha dichiarato il campione olimpico al settimanale Chi in edicola in questi giorni. Montano sta vivendo un buon momento anche sul fronte della scherma, l'anno dopo le olimpiadi è più tranquillo, sei più sereno e hai meno tensioni, è il clima ideale per me, ho già vinto due gare di Coppa del Mondo e ho tempo per la famiglia, il lavoro e la mia fidanzata, adesso manca soltanto un figlio.